Quanti di voi non salgono più al primo piano di casa perché non possono più fare le scale? Oggi invece, grazie alla tecnologia e all'esperienza di Montascale Sicilia, è possibile superare tutto questo, installando uno dei nostri Montascale in casa vostra. Chiamate per informazioni. Montascale Sicilia vi garantisce un'assistenza veloce ed efficace, in quanto siamo a Misilmeri, in provincia di Palermo. Montascale Sicilia vi solleva da ogni difficoltà. Chiamate con fiducia o visitate il sito www.montascalesicilia.it